Pulire la zanzariera? Non è mai stato così facile! Ecco come prendersene cura con ZAC, il kit Pronema per la pulizia e manutenzione. Basta seguire questa semplice sequenza di operazioni per poter contare su sistemi di protezione sempre puliti, efficienti e funzionanti. Innanzitutto spruzzate AIR, aria compressa in bomboletta. È un'operazione utile a liberare dalla polvere le guide e le piccole maglie della rete. Con Brush, la spazzola professionale che non graffia, spazzolate per rimuovere eventuali impurità rimaste. Frizionate la rete con delicatezza per non sottoporla ad uno stress eccessivo. Spruzzate Cleaner, il detergente a base d'acqua, sull'apposito panno in microfibra Dusty. Procedete alla pulizia dei profili e della rete. L'utilizzo del detergente è indispensabile per una corretta pulizia della zanzariera. La rete, infatti, essendo realizzata in fibra di vetro ricoperta di PVC, non verrebbe pulita usando solo acqua. Durante la pulizia è importante non eccedere nella pressione. Lubrificate le parti meccaniche con oil, perché una corretta manutenzione della zanzariera è importante quanto la pulizia. È un lubrificante professionale che non contiene silicone e perciò non macchia, non secca e non attira polvere. Applicatelo anche all'interno delle guide per agevolarne lo scorrimento e rendere il movimento più fluido e uniforme. Infine, spruzzate direttamente Protection sulla rete. È un repellente naturale alla citronella che con il suo profumo costituirà una barriera protettiva contro gli insetti. Se lo desiderate, spruzzatelo nell'ambiente. Regalerà un fresco profumo a tutte le stanze della vostra casa.